Oggi affronteremo un argomento di cui si discute spesso in questo periodo dell'anno, quando la gente pensa alla prima venuta del Signore. Siamo trepidanti per la seconda venuta del Signore e possiamo imparare qualcosa sulla seconda venuta analizzando la prima. Ricordiamo la storia in cui fu annunciata la prima venuta del Signore. In Luca leggiamo degli angeli che la videro e portavano un messaggio di pace. Il tema del nostro messaggio di oggi è come possiamo trovare la pace interiore. Chi desidera l'autentica pace interiore, spirituale? Ho pensato di darle un titolo molto semplice perché voglio condividere con voi la parola di Dio su come potete ottenere quella pace. Sospetto che molte persone che vanno in chiesa, molte persone che hanno il nome di Gesù, non abbiano la pace di Cristo. In base alle statistiche, moltissime persone finiscono all'ospedale a causa dello stress e dell'ansia. Molti dei farmaci venduti sono per trattare lo stress e l'ansia. E l'ansia è l'esatto opposto di quella pace. E Gesù ci ripete più e più volte che desidera che noi abbiamo quella pace. Abbiamo letto di quando Gesù venne per la prima volta, di questi messaggi celesti di pace, quando gli angeli apparvero ai pastori. E in Luca capitolo 2, versetto 13, dice E a un tratto si unì all'angelo. Quest'angelo annuncia il messaggio. All'improvviso i cieli spariscono e appare un'intera schiera di angeli, una moltitudine dell'esercito celeste, che lo dava Dio dicendo Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini. E molti nel mondo amano recitare queste parole e parlare di come Gesù venne per portare la pace sulla terra. E questo spesso viene frainteso, ma ne parleremo tra un attimo. Cosa ci viene offerto quando ci dice che Dio vuole che noi abbiamo questa pace? È vero, Dio vuole per noi la pace sulla terra, ma non ci sarà mai pace sulla terra sinché non avremo la pace dentro di noi. Uno dei grandi problemi del mondo oggi è che le persone non hanno pace e ciò comporta tutta una serie di problemi, ansia, stress, guerra e morte. Prima dobbiamo avere la pace in noi. Cos'è la pace? Cos'è la pace? Se avete la Bibbia ebraica, trovate la parola Shalom. Shalom è una parola che ha molteplici significati, un po' come quando alle Hawaii ti dicono Aloha. Dicono Aloha per dire buongiorno e arrivederci. Aloha significa amore. La parola Shalom in ebraico indica pace, sicurezza, star bene, felicità, amicizia, salute, prosperità, cortesia. In pratica indica tutto il buono che Dio ha da offrire. Ve lo auguro. E oggi è persino un saluto comune tra gli ebrei. Quando si incontrano si dicono Shalom, Shalom. E trovate spesso Gesù che lo dice. Nella Bibbia troviamo la parola pace circa 429 volte. C'è una leggera differenza a seconda della versione che si legge, dove magari si è scelto un altro termine, ma è una parola molto comune nella Bibbia. Pace. Nell'Antico Testamento è Shalom. Nel Nuovo Testamento troviamo la parola Eirene. Se vi chiamate Irene, il vostro nome significa pace. Non so se lo sapevate. C'è qualche Irene qui oggi. Non è più comune come una volta. Oppure Mildred. C'è qualche Mildred? Un tempo erano molto diffusi. Winifred? Abbiamo una Winifred. E se dicessi Aaron? C'è qualche Aaron? Sì, questo è più comune. Dunque, ecco cos'è la parola Eirene. La parola greca per pace ha significato simile. Pace, prosperità, tranquillità, riposo, esortazione alla pace. La definizione di pace del dizionario è Assenza di preoccupazioni e turbamenti. Serenità, tranquillità dell'animo. È il contrario di ansia, inquietudine, agitazione, rabbia. Penso che tutti vogliamo essere liberi dall'ansia. Vogliamo quella pace, quella tranquillità d'animo. Questo è un seminario diviso in tre punti. Non mi capita spesso di farlo. Di solito hanno circa 30 punti. Ma ognuno dei tre punti è diviso in altri punti. Ma sono davvero tre punti. Parleremo della pace scorretta, il tipo di pace sbagliato, parleremo del tipo di pace giusto e poi parleremo della strada per la pace. Quindi, primo, cosa non è la pace? Quando gli angeli dicono pace in terra, non stanno dicendo che sperano che le Nazioni Unite trovino una soluzione. Questa non è la pace di cui parla la Bibbia. Quando pensiamo alla pace sulla terra, non è quella. Guardate cosa dice Gesù sugli ultimi giorni. Non prevede pace. E vi saranno dei segni. Luca, capitolo 21, versetto 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Sta parlando di una tempesta. Gli uomini verranno meno dalla paura. Vi sembra pace? E dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo. Dice che i leader mondiali avranno delle perplessità, non potranno risolvere i problemi, sono in ansia, i loro cuori stanno cedendo alla paura. La profezia non prevede un mondo in uno stato di beatitudine prima della seconda venuta. Gesù disse, sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, fino alla fine. Non era questa la pace di cui parlavano gli angeli. Gesù disse in Giovanni 14, 27, io vi lascio la pace, vi do la mia pace. E notate cosa dice, io ve la do, non come la dà il mondo. Dice che non è il tipo di pace che dà il mondo, quella che sta offrendo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. E poi, Cristo dice in Matteo, capitolo 10, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Aspetta un attimo, pastore Doug. Non pensate che io sia venuto a mettere pace? Io pensavo che Gesù, il principe della pace, fosse venuto per portare pace. Non viene per portare la pace globale tra le nazioni. Infatti disse, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Questa non è la pace che Gesù sta offrendo. È interessante che Gerusalemme venga chiamata la città della pace e sia stata distrutta dalle guerre e ricostruita per 27 volte. La città della pace. Herbert Hoover disse, la pace non si fa attorno al tavolo del Consiglio attraverso i trattati, ma nel cuore degli uomini. Ho sempre trovato interessante che il premio per la pace sia stato stabilito dall'uomo che inventò la dinamite. Albert Nobel o Alfred Nobel. Quindi, parlando del tipo sbagliato di pace, la pace che Gesù sta offrendo non è una pace di tipo fisico. Noi pensiamo, se potessi avere sollievo dalla mia sofferenza fisica, allora otterrei pace. Beh, sicuramente farebbe sentire meglio avere quel tipo di tranquillità, ma Paolo aveva una spina nella carne e Dio gli disse, non te la toglierò nonostante la tua fede perché attraverso di essa rimarrai umile. Mi ricordo di quando andai in ospedale, quando vivevo in New Mexico. Probabilmente avrete sentito parlare di La Vida Mission. Quanti di voi hanno sentito parlare di La Vida Mission? Abbiamo lavorato con loro alla riserva Navajo per qualche tempo e fu fondata da una donna di nome Vida Shoulder, molta gente non lo sa, che andò a lavorare con i Navajo molto tempo fa. Noi la conoscemmo ormai anziana, viveva in una roulotte o fuori dal complesso della missione. Una donna dolce e molto devota, un'infermiera che passò la vita a svolgere la sua missione presso i Navajo. Ormai anziana era ricoverata in ospedale in condizioni critiche a causa di un grave scompenso cardiaco con gestizio. Immagino dovesse provare molto dolore, aveva difficoltà a respirare, molto dolore al petto. Io andai a trovarla e la vi di trassalire. Non sono stato preparato alle visite in ospedale, non sono assolutamente bravo perché dico sempre cose tipo, come stai? Quando loro sono circondati da tubi, macchine, eccetera. E io, non so cosa dire. le dissi, Vida, come stai? E lei rispose, oh Dio, è così buono. Non sono così grata, è stato tanto buono con me, non vedo l'ora di vedere Gesù. E pensai, era chiaro che stava soffrendo fisicamente, ma aveva questa pace interiore che era del tutto indipendente dalla sua salute fisica. Quindi, quando la Bibbia parla di pace in terra, non sta parlando della pace del vostro corpo, anche se tutti ci speriamo, tutti speriamo che ci sia pace tra le nazioni, per non parlare della pace familiare. Io prego, perché ci sia pace nella vostra famiglia. Martin Lutero disse, avere pace e amore nel matrimonio è un regalo simile alla conoscenza del Vangelo. La pace familiare, la pace in famiglia è al pari della conoscenza di Cristo del Vangelo, ma Gesù non offre quella pace. Disse, sono venuto a mettere disaccordo tra padre e figlia, tra nuora e suocera, moglie e marito, genitori e figli. A meno che tutti in famiglia non abbiano Gesù nel cuore, probabilmente non avrete molta pace familiare. Persino chi tra di voi ha Gesù nel cuore non ha la pace familiare. Quindi, non si sta parlando di questo, anche se penso che bisogna impegnarsi e pregare per la pace nelle nostre famiglie. Amen? Non è di questa pace di cui gli angeli stavano parlando. non è la pace di tipo economico. Tutti pensiamo che se potessimo tenere basso il tasso di disoccupazione, ed è basso adesso, e l'inflazione sotto controllo, abbassare i tassi di interesse, avere prosperità economica, saremmo in pace. Per qualcuno di noi, non riguarda solo la prosperità economica del paese. Mi piacerebbe sapere di avere denaro a sufficienza in banca e dormireste tranquilli la notte. Molte persone sono in ansia per le proprie finanze. Ho delle notizie per voi. Anche se tutti i vostri problemi finanziari fossero risolti, non vi darebbero il tipo di pace di cui la Bibbia sta parlando. Non è una pace finanziaria. Ci sono molte idee sbagliate su ciò che è questa pace. molti falsi concetti di pace. Ezechiele 13,10 Poiché sì, poiché hanno fatto sviare il mio popolo dicendo pace quando non c'è pace. Pensiamo che la semplice assenza di conflitto significa avere la pace spirituale della Bibbia. Se la vostra idea di pace è basata sulla situazione del mondo, la perderete non appena ascolterete il notiziario. Se la vostra idea di pace è basata sulle finanze, allora quando la borsa crolla, anche la vostra pace crollerà. Se la vostra pace è basata sulla felicità familiare, ogni discussione in famiglia vi ruberà la vostra pace. La vera pace non è basata su circostanze esterne, ma sulla relazione interiore che abbiamo con il Signore. Alcuni cercano di sfuggire dall'ansia e raggiungono un'illusione di pace perché sono sotto farmaci. Non sto dicendo che alcuni hanno bisogno di una cura farmacologica e non sto suggerendo che smettiate di prendere i farmaci e veniate qua. Provatelo da qualche altra parte. Non stiamo parlando di quello, ma siamo onesti, alcune persone sono sotto l'effetto di farmaci o dell'alcol e pensano sì, mi sento piuttosto bene. Ed è, ci sono molte persone sulla strada per l'inferno e hanno l'illusione della pace. Come Pietro che dormiva nel braccio della morte? Molte persone, il diavolo in pratica, inietta alle persone questo falso senso di pace. Conosco alcune persone ate che sembrano essere molto a loro agio e io penso come puoi essere a tuo agio senza alcuno scopo nella vita. Prima Tessalonicesi 5.3 Quando infatti diranno pace e sicurezza allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, non è molto confortevole, come le doglie di parto alla donna incinta e non scamperanno affatto. John Bunyan disse se non abbiamo la serenità mentale, la comodità esteriore non ci farà più bene di una pantofola dorata su un piede gottoso. Aveva un modo tutto suo di dire le cose. Dunque c'è questo errato concetto mondialmente diffuso di ciò che darà la pace. Ora senza tenervi sulle spine penso che tutti sappiamo quale sia il giusto tipo di pace. Viene da Dio. Salmi 29 versetto 11 L'Eterno benedirà il suo popolo con la pace. Qualcuno ha detto che la pace è un po' come la felicità che siamo sicuri che ci sfuggerà se miriamo direttamente ad essa. Troviamo la pace quando troviamo Dio. È come quando la gente dice voglio la felicità e lotta per cercarla invece di lottare per Dio e la santità. Il modo per trovare la felicità non è mirare alla felicità stessa ma è mirare alla santità. Allora troverete la felicità. Il modo per trovare la pace non è cercare la pace ma cercando Dio troverete la pace. Ha senso? La gente spesso punta alle cose sbagliate. Se il vostro obiettivo è avere Dio e averlo dentro di voi allora questo vi porterà alla pace. Giobbe 22 versetto 21 questo è un bellissimo versetto che dice tutto. Riconciliati dunque con Dio e sarai al sicuro. Se ti sei riconciliato con Dio questo porterà la pace nella tua vita. Dio è l'essenza e la fonte della pace. In effetti nel Nuovo Testamento Dio viene indicato per sette volte come il Dio della pace. Il Dio della pace il Dio della pace il Dio della pace mi pare che dica una volta il Signore della pace e una volta il Re della pace ma per sette volte Dio si identifica con la sua stessa natura di pace. So che ci piace dire che Dio è amore è davvero ma non dimenticate che è anche pace. Pensateci con le preoccupazioni del mondo i problemi del mondo e i problemi con il peccato le guerre le malattie la morte non pensateci troppo è deprimente. Quando pensate a queste cose che potrebbero mettervi ansia immaginate Dio Dio è sul trono è il sovrano dell'universo è preoccupato per il futuro perché dovrebbe preoccuparsi per il futuro conosce il futuro ha il potere su tutte le cose è onnipotente riuscite a raffigurarvi un'immagine di Dio che si strofina le mani gocce di sudore che gli bagnano la fronte le sopracciglia aggrottate mentre va avanti e indietro domandandosi come andrà a finire voglio dire se ci pensate è davvero assurdo immaginarsi Dio preoccupato dunque più vi avvicinate a Cristo e Cristo è Dio più diventate simili a Cristo e più sarà la gioia di cui godrete perché diventerete come Cristo e la Bibbia dice abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù quando avete il sentimento di Cristo e il sentimento di Dio ottenete la pace perfetta perché sapete che Lui ha il controllo di ogni cosa che vi ama e vuole il meglio per voi qualsiasi cosa succeda se voi fate la vostra parte e seguite la sua volontà non avrete niente di cui preoccuparvi è una meravigliosa esperienza liberatoria ebbene non dovete avere paura Dio è l'essenza della pace in Romani 15 versetto 33 leggiamo ora il Dio della pace sia con tutti voi Amen prima Tessalonicesi 5.23 ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso Dio non si morde le unghie non va avanti e indietro è l'essenza la definizione stessa di pace e il Signore lo disse persino ai Suoi sacerdoti voglio che diate la mia benedizione alla gente e questo è il modo per farlo l'Eterno ti benedica e ti custodisca questo è numeri 6 versetto 24 l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia shalom la pace quindi la benedizione di Dio cos'è? è la sua pace cosa potremmo mai la capitale dove vivremo per l'eternità com'è chiamata? la nuova? Gerushalom città della pace il destino di tutti i credenti è la pace beati mansueti perché essi erediteranno la terra e sarà un regno di pace la pace non consiste nell'assenza del pericolo ma nella presenza di Dio ora Dio non vuole che siamo ansiosi per due ragioni è negativo per voi ed è negativo per gli altri la vostra ansia non è solo dannosa per voi ma è dannosa anche per gli altri prima di tutto è dannosa per voi lui vuole che abbiate pace vi ama la preoccupazione nel cuore dell'uomo la batte dice Salomone in Proverbi 12-25 sapete che le malattie cardiache l'asma l'obesità il diabete l'emicrania la depressione gli attacchi di panico i problemi gastrointestinali e gli infortuni sono tutti riconducibili allo stress penso che le prime 5 categorie di malattie che uccidono più persone siano collegate all'ansia e allo stress molti dei farmaci acquistati come ho detto prima sono legati allo stress le persone desiderano la pace l'industria dell'intrattenimento l'idea stessa di essere distratto distratto da cosa? distratto dalle preoccupazioni la gente cerca delle distrazioni perché non ha pace dentro di sé e quindi partecipa a questi viaggi prende farmaci si siede e si intrattiene per ore facendo indigestione di televisione per dimenticare l'ansia perché ricerca la pace Dio vuole che abbiate pace l'ansia non è positiva per voi in questo mondo in confusione alcuni hanno pace mentre altri vanno in pezzi la pace ha sei nemici la paura l'avidità l'ambizione l'invidia la rabbia e l'orgoglio infatti mi stavo domandando se mi sarei ricordato di citarlo la Duke University ha realizzato uno studio sulla serenità mentale non sto suggerendo che troveremo la serenità mentale grazie alle scoperte della Duke University ma questo è ciò che hanno scoperto alcuni dei fattori che sembrano contribuire in maniera importante alla stabilità mentale emotiva sono l'assenza di sospetto o risentimento covare rancore è una delle principali cause dell'infelicità e la Bibbia dice di perdonare il prossimo non vivere nel passato una malsana preoccupazione per gli errori commessi rimpianti e fallimenti portano alla depressione molte persone non hanno pace per via dei loro rimpianti e perché vivono nel passato Paolo dice dimenticate le cose che stanno dietro Amen non sprecare tempo ed energie in cose che non si possono cambiare bisogna assecondare la vita anziché cercare di fuggire da essa qualcuno di voi ricorderà quella vecchia preghiera della serenità diceva Dio concedimi l'intelligenza ah no concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza qualcosa del genere giusto? se è qualcosa che puoi cambiare devi solo se non ti piace il fatto di non avere i capelli ricci non passare la vita a rimpiangerlo passando tutto il tempo a fare la permanente per avere i capelli ricci alle persone semplicemente non piace come sono fatte ma è qualcosa che non possono cambiare quindi siatene soddisfatti ho perso la mia lista sforzarsi di non isolarsi dal mondo reale alcune persone sono ansiose e si isolano non indugiare nell'autocommiserazione quando la vita ti mette davanti degli ostacoli ognuno affronta dei problemi e ci sono sfortune che capitano a tutti non continuate a riciclare il vostro dolore per quelle cose coltivare i valori ormai fuori moda interessante che lo dica la Duke University coltivare i valori ormai fuori moda dell'amore dell'umorismo della compassione e della lealtà non pretendere troppo da se stessi quando c'è troppo divario tra l'aspettativa e la propria abilità di raggiungere quegli obiettivi si diventa ansiosi e si prova un senso di inadeguatezza trovare qualcosa di più grande in cui credere è quello che dice la Bibbia le persone egocentriche ed egoiste raggiungono i livelli più bassi di pace e felicità interessante quindi l'ansia è negativa per voi la mancanza di pace non solo è negativa per voi ma è negativa anche per chi vi sta a fianco la vostra mancanza di pace è negativa per gli altri Gesù ci ha chiamati ad adoperarci per la pace vuole che siamo testimoni se non abbiamo la pace interiore come possiamo testimoniare agli altri se dite a qualcuno vorrei che venissi nella mia chiesa e fossi cristiano e siete la persona più agitata del vicinato vi risponderà se vengo nella tua chiesa sarò come te ma se siete persone che hanno raggiunto la pace avete la serenità avete la gioia e sanno che c'è qualcosa in voi che siete focalizzati su Dio vorranno avere ciò che avete voi dunque se si è ansiosi e agitati non si è dei buoni testimoni è negativo per voi ed è negativo per gli altri la soluzione ovviamente è avvicinarsi a Dio beati coloro che si adoperano per la pace perché essi saranno chiamati figli di Dio allora abbiamo parlato di ciò che la pace è e di ciò che la pace non è del fatto che la pace viene attraverso Dio ma qual è la strada per la pace come si trova quella pace interiore Filippesi capitolo 4 versetto 6 non siate in ansietà per cosa alcuna ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento e la pace di Dio non potete avere pace senza Dio la pace di cui cantava l'angelo è quella che deriva da Dio non la si ottiene senza Dio e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza il mondo non comprende questa pace non è la pace del mondo e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù quindi qual è la strada per la pace pregare affidarsi obbedire questa è una sottocategoria della strada un cristiano in pace è un potente testimone abbiamo bisogno di pace abbiamo bisogno di una conferenza sulla pace con il principe della pace il mondo è concentrato su se stesso e ciò porta all'infelicità focalizzare il proprio mondo su Dio porta alla pace Isaia 26 versetto 3 alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta perché confida in te la meditazione del mondo è molto diversa dalla meditazione di Dio molte persone nel mondo ho sentito di un amico che è andato dal medico per via di un'eruzione cutanea persistente e si aspettava che gli prescrivesse qualche farmaco ma lui gli ha detto che lo sfogo in realtà era causato dallo stress e che avrebbe dovuto pensare di fare meditazione alcune persone si danno alla meditazione allo yoga in cerca della pace io facevo parte di quel mondo molto tempo prima di diventare cristiano e è molto diversa dalla meditazione biblica la meditazione del mondo in pratica è autoipnotizzarsi trovi qualche mantra o qualche parola e continui a ripeterla sinché non ha più senso la tua mente si riempie di una sorta di vuoto torpore e raggiungi questa illusione di pace solo attraverso e molto presto dite penso di sentirmi molto meglio bene ma non hai affrontato i problemi della vita è una sorta di ipnosi autoindotta dove si ha pace solo perché si diventa insensibile alla realtà della vita questa è l'idea di meditazione del mondo semplicemente ci si rifiuta di preoccuparsi di tutto la meditazione di Dio non è svuotarsi ma riempire se stessi di Dio quando la tranquillità dello spirito di Dio entra in voi vi dona la pace vera e duratura quando un cristiano affida la sua mente a Cristo sviluppa un meraviglioso complesso Romani capitolo 8 versetto 5 infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito infatti la mente controllata dalla carne produce morte ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace c'era un cartello fuori da una chiesa che diceva la vita è un puzzle cercate qui il pezzo mancante quindi quando parliamo di avere pace con Dio non si tratta solo di una pace che sperimentate dentro di voi ma inizia anche con un processo che avviene esteriormente in pratica noi siamo in guerra con Dio prima di essere convertiti avete sentito di paesi che decidono di aderire a un trattato di pace prima di convertirvi siete nemici di Dio vi leggo un passo perché so che non è una sensazione positiva Romani 8 5 no scusate Romani 5 versetto 10 infatti se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio molto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita quindi prima di avvicinarci al Signore non abbiamo pace e siamo anche nemici di Dio dunque prima che possiate avere la pace di Dio in voi dovete riconciliarvi con Dio come ci riconciliamo con Dio? attraverso Cristo Cristo offre se stesso come sacrificio e mediatore che ci riconcilia con Dio Salmi 34 14 cerca la pace e procacciala cercare la pace è in effetti cercare Dio passiamo a Efesini che spiega la transazione Efesini 2 14 Egli infatti è la nostra pace colui che ha fatto dei due popoli uno eravamo separati da Dio e ha demolito il muro di separazione avendo abolito nella sua carne l'inimicizia la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliare ambedue con Dio in un sol corpo per mezzo della croce avendo ucciso l'inimicizia in se stesso ed Egli venne per annunziare la pace avete notato qui tre volte pace 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 attraverso Cristo e il suo sacrificio ed Egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini ricordo di aver visto una volta un adesivo per auto che giocava sul medesimo suono in inglese della parola no e conoscere niente Dio niente pace conosci Dio e conosci la pace niente Dio niente pace conosci Dio conosci la pace capite? dobbiamo affidare i nostri cuori alla parola vi ho detto che è attraverso la parola di Dio ci affidiamo preghiamo e obbediamo affidate i vostri cuori alla parola di Dio Gesù disse in Giovanni 16.33 vi ho detto queste cose affinché abbiate pace attraverso ciò che Gesù dice troviamo la pace quindi se volete la pace leggete ciò che disse Gesù questo vi darà pace alcune persone non hanno pace e non leggono la parola ci sono così tante volte in cui Cristo dice pace pace nella Bibbia si racconta la storia di Gesù che si trova sul mare di Galilea nel mezzo di una terribile tempesta al buio i discepoli hanno freddo l'acqua entra nella barca affonderanno e moriranno sono molto preoccupati e spaventati allora svegliano Gesù e lui dice pace nelle traduzioni dal greco taci e calmati Gesù probabilmente disse solo shalom una parola e la tempesta si placò e poi dice ai discepoli perché avete paura? cosa ci sta dicendo qui il Signore? vuole che abbiamo la sua pace con cui potete essere tranquilli durante una tempesta avrete probabilmente sentito la storia di come nacque la chiesa metodista con John Wesley e di come John Wesley venne convertito fu durante una tempesta era impegnato in missione in Nord America ma non era realmente convertito e nel viaggio in nave ritornando in Inghilterra dopo un penoso fallimento come missionario si trovarono in mezzo a una terribile tempesta che compromise l'intera barca entrò l'acqua la vela si squarciò e tutti erano sul ponte col mal di mare gridando dalla paura un gruppo di cristiani moraviani una sorta di primi battisti originari della Germania si trovava sul ponte il ponte oscillava avanti e indietro l'acqua inondava la barca schiaffeggiando l'intera famiglia e loro cantavano Wesley chiese non avete paura? non abbiamo paura sua moglie e i suoi figli non sono spaventati non abbiamo paura siamo nelle mani di Dio abbiamo pace nella tempesta vedere questo lo cambiò realizzò che gli mancava quella pace nella Bibbia potete leggere di Gesù e la sua pace durante la tempesta e quelle parole sono di ispirazione Signore questo mi dà pace non mi devo preoccupare per la tempesta in mezzo a cui mi trovo Dio mi aiuterà se confido in Lui mettetelo in pratica Atti capitolo 10 versetto 36 la parola che egli ha dato ai figli di Israele annunziando la pace per mezzo di Gesù Cristo attraverso la proclamazione della parola apprendiamo qualcosa sulla pace spero che abbiate colto qualcosa oggi Salmi 119 versetto 165 grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che li possa far cadere quando dice che amano la legge non intende solo i dieci comandamenti questa era chiamata la legge e i profeti grande pace hanno quelli che amano la parola e non c'è nulla che li possa far cadere la pace proviene dalla parola alcuni di noi pensano che la risposta si trovi nell'armadietto dei medicinali quando in realtà è nella Bibbia sulla libreria la pace che stiamo cercando viene dalla parola Romani 10-15 quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace che annunziano buone novelle vedete gli angeli parlavano della pace attraverso il Vangelo e attraverso la parola del Vangelo che ci riconciliamo con Dio e questo ci dà la pace nel cuore quindi è attraverso la preghiera affidando il nostro cuore alla parola è attraverso l'obbedienza il Vangelo porta un messaggio ed è un messaggio di fiducia alcune persone non trovano pace perché vivono nella disobbedienza beh non pregherò perché abbiate pace nella disobbedienza Dio vi ama troppo per far sì che vi sentiate comodi nel vostro cammino verso la distruzione vuole che vi sentiate colpevoli di vivere nella disobbedienza Amen non vorrete essere felici se siete perduti no? non è positivo per voi è come avere un medico che vi dice che il vostro tumore alla pelle ha un'irritazione da edera velenosa non vi sta aiutando dobbiamo obbedire Filippesi 4 versetto 9 quelle cose che avete imparato ricevuto e udito da me e veduto in me fatele e il Dio della pace sarà con voi attenzione fate le cose che vi ho detto e il Dio della pace sarà con voi Isaia 57 versetto 21 non c'è pace per gli empi dice il mio Dio Dio non promette la pace agli empi Salmi 37 37 sta attento all'uomo integro e osserva l'uomo retto perché il futuro di tale uomo quale pensate sarà? sarà pace coloro che conducono una vita retta avranno la pace nel cuore Isaia 48 versetto 18 oh se tu avessi prestato attenzione ai miei comandamenti la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare la pace di Dio ci inonderebbe è come un fiume dice se avessi prestato attenzione ai miei comandamenti perché Dio vuole che gli obbediamo? perché è più grande di noi o perché sa che quella è la fonte della vera pace interiore? Isaia 32 versetto 17 l'effetto della giustizia sarà la pace il risultato della giustizia tranquillità e sicurezza volete quella tranquillità? volete quella sicurezza? volete quella pace? c'è qualche aspetto della vostra vita che non avete consacrato al Signore? non confidate in Lui vivete ancora nella disobbedienza? e vi domandate perché non avete ancora pace se camminate ancora deliberatamente nella disobbedienza? questo non significa che non scivoliamo e cadiamo il modo di ristabilire la pace è non appena peccate pentitevi rinnovate il patto e ciò vi darà pace immediatamente credeteci ma se vivete in costante disobbedienza verso Dio e non avete pace beh questa è la fonte del problema Erwin Lutzer disse la pace emotiva e la tranquillità arrivano dopo aver compiuto la volontà di Dio e non prima Gesù è il principe della pace sarà chiamato consigliere ammirabile Dio potente padre eterno principe della pace e se lui regna nei vostri cuori allora anche la sua pace regnerà nei vostri cuori Romani 5.1 giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo quindi se avete commesso degli errori se avete peccato e volete recuperare quella pace credete ho parlato di pregare affidarvi e obbedire ma è anche aver fede dovete credere che Dio vi perdonerà ci sono persone che si sono donate a Dio cercano di obbedirgli ma semplicemente non riescono a perdonarsi dovete credere alla sua promessa credere che vi perdoni Giovanni 20 versetto 19 ora la sera di quello stesso giorno il primo della settimana mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei erano ancora spaventati Gesù venne e si presentò là in mezzo e cosa pensate che disse pace a voi quindi al principio quando gli angeli presentano Gesù nella storia del Vangelo dicono pace dopo la resurrezione Gesù appare ai discepoli e cosa dice? pace dall'inizio alla fine il suo messaggio è che vuole per noi la pace poi Gesù di nuovo disse loro pace a voi andiamo al versetto 26 sempre in Giovanni 20 versetto 26 Gesù venne a porte serrate si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi quindi per tre volte pace a voi pace a voi pace a voi quindi se Gesù vi dice pace a voi c'è potenza creatrice nella sua parola dunque quando lo dice può diventare realtà la pace che Gesù ci offre non è soggetta a influenze politiche o serenità familiare lui aveva la pace interiore nonostante sapesse che stava andando sulla croce la pace interiore viene dallo Spirito Santo quali sono i frutti dello Spirito i frutti dello Spirito sono amore gioia e pace quindi se dite voglio la pace di Dio ciò che state dicendo in realtà è voglio lo Spirito di Dio perché se siate battezzati nello Spirito Santo avrete pace non potete avere l'uno senza l'altro quando lo Spirito Santo scende su di voi vi dà quella pace Romani 5.1 no scusate lo abbiamo già letto Romani 14 versetto 17 poiché il regno di Dio non è mangiare e bere ma giustizia pace e gioia nello Spirito Santo attenzione lo Spirito Santo pace atti 9.31 così le chiese in tutta la Giudea la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate e camminando nel timore del Signore e della consolazione dello Spirito Santo moltiplicavano pace Spirito Santo Giovanni 14.26 Gesù disse ma il Consolatore lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto io vi lascio la pace vi do la mia pace non è incredibile che Gesù parli di pace Giovanni 14 quando successe l'ultima cena Giovanni 13 sta lavando i piedi dei discepoli giusto? è corretto credetemi sulla parola cosa succederà a Gesù il giorno dopo? beh quella notte sarà tradito verrà picchiato verrà processato e il giorno successivo sarà crocefisso eppure sarà capace di dire ai discepoli pace vi lascio la pace sapete una delle ragioni per cui ci può offrire quella pace è perché prese tutti i nostri turbamenti non sarebbe stato triste se Gesù avesse preso tutte le vostre preoccupazioni e le aveste prese anche voi? il Signore dice porterò i vostri pesi gettate su di me i vostri pesi perché volete che li porti Lui se anche voi li state portando? è come portare lo stesso peso due volte lasciate che Lui porti il vostro peso lo Spirito Santo porta quella pace vi lascio la pace la pace governa il giorno mentre Cristo governa la mente sapete ricordo di aver letto di una nave un sottomarino che era salpato e sapete che quando costruiscono uno di quei sottomarini nucleari lo collaudano e fanno una serie di test per essere sicuri che Regga nel caso venisse coinvolto in qualche operazione bellica quindi lo collaudano i sottomarini vanno sott'acqua e quelli nucleari possono rimanere sommersi anche mesi se si hanno viveri sufficienti riciclano purificano l'acqua purificano la loro stessa aria sono dotati di energia nucleare non rimarranno mai senza ho letto di questo sottomarino che era fuori per il collaudo e le comunicazioni sono interrotte a grande profondità non hanno un'antenna non c'è internet sotto il livello del mare lo sapete vero? non c'è connessione laggiù dopo aver passato il collaudo il sottomarino riemerse in superficie e si diresse in porto dissero come avete affrontato l'uragano ragazzi? sapete cosa dissero i marinai? quale uragano? oh è quell'uragano che affondò la flotta no non affondò la flotta ma un uragano di categoria 5 può affondare una flotta ma non danneggerà un sottomarino perché non danneggia un sottomarino? perché un sottomarino è già a fondo non è vero? e se siate crocefissi con Cristo allora cosa può fare il diavolo per togliervi la pace? la Bibbia dice che non si può ferire davvero una persona che si è abbandonata al Signore che è stata crocifissa con Cristo Gesù disse non temete colui che può distruggere il vostro corpo non avete nulla di cui aver paura non può toccare la vostra anima ricordo di aver letto riguardo a uno dei grandi riformatori si chiamava Nicholas Ridley e in sostanza venne arso a rogo in Inghilterra Latimer e Ridley erano riformatori protestanti grandi teologi a dire il vero erano vescovi ma quando Maria prima salì al potere si dedicò al credo cattolico e mandò a rogo qualunque simpatizzante del protestantesimo soprattutto i capi ci furono moltissime esecuzioni in effetti sono stato a Oxford in Inghilterra e c'è ancora una targa sulla strada che dice qui furono giustiziati Latimer e Ridley furono arsi vivi per via della loro fede la notte prima che Nicholas venisse giustiziato un membro della sua famiglia andò da lui e gli disse sono venuto a farti compagnia per la notte e lui disse spero che tu non lo faccia speravo di farmi una bella dormita qualcuno ha detto la coscienza pulita è il miglior cuscino era il 1555 quando Latimer e Ridley furono giustiziati e Ridley disse a Latimer credo che accenderemo un rogo in Inghilterra che cambierà il corso della storia e pregarono insieme avrete sentito di martiri che cantavano probabilmente avrete sentito di martiri che furono uccisi da leoni o gladiatori nel Colosseo e erano assolutamente in pace e l'imperatore Diocleziano invece di cancellare il cristianesimo quando giustiziava pubblicamente i cristiani otteneva che le persone che assistevano alle esecuzioni fossero così turbate dalla loro pace che poi andavano a cercare un cristiano per chiedergli dimmi in che cosa credi quindi in realtà la pace dei cristiani diffuse il Vangelo non avevano paura Dio ci sta offrendo una pace che il mondo non può portare via non è la pace familiare quella di cui parla la Bibbia molto spesso abbiamo problemi in famiglia semplicemente perché non siamo felici nel nostro cuore non sappiamo quanto Dio ci abbia benedetti non siamo mai soddisfatti ho sentito di un uomo in India che viveva in una capanna con la moglie numerosi figli e i suoi suoceri e la confusione il trambusto lo stress erano tali che non ne poté più c'era un guru molto saggio nel suo villaggio e qualcuno gli consigliò parla con il guru qualunque cosa ti dica di fare tu falla ha una risposta per tutto allora quest'uomo andò dal guru e gli disse non sopporto più il caos nella mia famiglia vivere in quella casa con tutta quella agitazione e tutta quella confusione mi sta facendo impazzire disse hai un gallo? sì ce l'ho disse porta il gallo in casa con te e vieni a trovarmi tra una settimana così portò il gallo in casa e andò a trovarlo dopo una settimana non è stato affatto di aiuto il gallo ha fatto un caos e ci sveglia presto la mattina non abbiamo ancora finito disse hai una mucca? sì ho una mucca devi portare la mucca in casa con te per una settimana poi torna a trovarmi lui tornò e disse questo ha peggiorato le cose più di qualsiasi altra cosa non voglio descrivere cosa sta succedendo in casa in questo momento questo andò avanti per diverse settimane fino a quando si ritrovò in casa una capra un maiale e diversi altri animali alla fine esasperato disse non andrò mai più da quel guru e cacciò di casa tutte quelle bestie tutta un tratto si sentì davvero in pace semplicemente non sapeva quanto fosse benedetto a volte la pace deriva dall'avere un sentimento di gratitudine per ciò che si ha confidare in Dio per la nostra situazione e per la nostra vita in definitiva il Signore ci sta offrendo la pace eterna tra un minuto canteremo di quella pace voglio solo darvi una dritta c'è un bellissimo inno il 466 se avete un innario apritelo così diamo anche ai nostri musicisti il tempo di salire lontano nelle profondità del mio spirito chi di voi vuole essere in eterno sapete come Dio descrive l'eternità? è un posto di pace la Bibbia dice in Salmi 37 versetto 11 ma i mansueti possederanno la terra e godranno di una grande pace Isaia 11 versetto 6 il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto il vitello il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme e un bambino li guiderà Ezechiele 28 versetto 26 vi abiteranno al sicuro edificheranno case e pianteranno vigne sì abiteranno al sicuro Dio ci sta promettendo un'eternità di pace nella nuova Gerushalom ma se avrete la pace lì allora dovrete prima provare quella pace qui adesso se state aspettando la pace del mondo se pensate che i politici ci porteranno la pace o che gli economisti ci porteranno la pace o i consiglieri del mondo ci porteranno la pace non proverete mai quella tranquillità che Gesù vi sta offrendo quella reale pace arriverà solo se inviterete il principe della pace a essere il signore della vostra vita accettate il perdono il patto di pace che lui ha fatto con noi e godrete di quella pace grazie a tutti